voodoo child voodoo child è un pooper che ha collaborato a volte con i dot camel facendo appunto come ho detto prima facendo anche ad esempio un video dedicato a richard benson quando aveva fatto l'appello della richiesta a fondi quando stava male ai fan comunque voodoo child fa i tipi di video appunto fa molte recitazioni di richard benson anche per quello sono molto affezionato ai suoi video come quelli di dot camel e anche di poi c'era anche quello di dead poop faceva un video su richard benson comunque voodoo child fa video proprio fa youtube poop proprio sui video di richard benson vari dei tipi di tecniche che usa ci sono soprattutto parole composte poi reverse clips citazioni immagini poi fa poop anche di altro tipo tipo ad esempio mi sa che forse quella che mi ricordo meglio Silvio si rifiuta di togliere l'immu sulla terza causa quindi fa anche poop sulla politica diciamo che lui fa poop da vari anni non so se sta facendo ancora altri video della particolarità comunque di voodoo child la sua intro che mi piace molto soprattutto per la sua intro che è l'intro appunto di voodoo child la canzone di jimmy hendrix si diciamo che è molto divertente e originale molto d'impatto ai suoi video non ne ho visti tantissimo sui video tantissimo infatti non mi ricordo in maniera molto dettagliata che che tipi di fdf ti usa ma grandi linee mi ricordo comunque si diciamo che i video che mi ricordo meglio sono quelli che su richard benson e quelli sulla politica vabbè comunque penso che sia anche steve bartz penso che sia romano voodoo child poop è romano anche steve bartz non so perché mi sembra che l'ho letto ma non ne sono sicuro pofff Grazie a tutti.